Un terribile incendio divampato questa mattina in un palazzo al numero 828 di via Cadorna, Buccinasco, nella provincia di Milano. Una donna, cortasi del fumo, ha dato l'allarme permettendo agli altri condomini di mettersi in salvo. Purtroppo, però, secondo quanto si apprende, non è riuscita ad aiutare il marito che è morto carbonizzato nel letto. Non è ancora chiaro cosa possa aver scaturito il rogo sulla vicenda, stanno indagando i carabinieri.